OneSearch è un progetto per la ricerca di risorse bibliografiche sviluppato all'interno di una rete di Atenei e altri enti della regione toscana. OneSearch semplifica il classico metodo di ricerca bibliografica, permettendo all'utente di svolgere ricerche su più cataloghi attraverso un'interfaccia unica, semplice e intuitiva. Tutto ciò è reso possibile dal progetto SBART, che riunisce virtualmente le biblioteche di cinque Atenei Toscani e di altre istituzioni. Quando effettui una ricerca, il sistema restituisce tutte le risorse disponibili relative a quell'occorrenza. Puoi scegliere se ricercare a livello di singola istituzione o sul catalogo aggregato. È inoltre possibile individuare i documenti più rilevanti affinando i risultati di una ricerca per tipologia di risorsa, argomento, autore, anno di edizione, eccetera. Con OneSearch hai accesso immediato anche da casa ad articoli in formato elettronico ed e-book su cui è possibile effettuare una ricerca testuale. Il programma suggerisce anche altre ricerche correlate all'argomento principale, accompagnandoti alla scoperta di altro materiale analogo. Inoltre OneSearch ti offre la possibilità di personalizzare tutte le attività del tuo profilo utente, salvare la strategia di ricerca, attivare alert su argomenti di interesse, disporre di un tuo scaffale elettronico, rinnovare in maniera autonoma il prestito di un libro, prenotare un libro che è in prestito, fare una richiesta di prestito interbibliotecario o copia di articoli. Con OneSearch la ricerca diventa più semplice, efficace e chiara. OneSearch è il punto di partenza per un continuo sviluppo delle collezioni a tua disposizione.